ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di stilograficamente oggi prendiamo in esame la lami 2000 una penna che non ha bisogno di molte presentazioni perché nel panorama delle stilografiche è rimasta veramente da tanti anni perché è stata immessa sul mercato fin dal 1966 il suo designer colui che ha ideato l'aspetto di questa penna si chiama o meglio si chiamava gerd a muller questo signore questo designer lavorava nel 1955 tra il 1955 e il 1960 nella brown ag la brown ag era una un'azienda acquisita poi dalla gilet company nel 1967 un'azienda che ha avuto sede a francoporte e con primo capo dipartimento del design il dottor fritz eichler chiedo scusa se la pronuncia dovesse essere sbagliata che dal 1956 iniziò una collaborazione con la ulm school of design questa scuola fondata dal max bill da questo signore che era esponente un ex studente del movimento bauhaus una scuola tedesca che fuse il razionalismo al funzionalismo razionalismo come corrente filosofica vi chiedo scusa se vi do tutte queste informazioni che magari sembrano essere solo tangenti alla penna ma in realtà quello che voglio raggiungere è l'obiettivo di darvi un contesto nel quale in cui ci stiamo muovendo dicevo il funzionalismo è una filosofia che trova radici fin dall'epoca ellenica quindi scuola di talete scuola di pitagora e riconduce tutta la realtà a delle leggi fondamentali che sono percepibili dal pensiero umano e il funzionalismo era una corrente tedesca principalmente in ambito architettonico ma anche nell'ambito del design laddove l'oggetto doveva rispecchiare la sua funzione quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo contesto storico contesto idealistico filosofico e lo troviamo calzare alla perfezione sul design di questa penna un design funzionale un design che non lascia dubbio alla allo scopo per cui questo oggetto è stato costruito e vediamo quali sono le caratteristiche macroscopiche funzionale sì anche perché è realizzata in macrolon macrolon è un materiale brevettato un policarbonato con elementi anche di vetro brevettato dalla buyer azienda multinazionale farmaceutica tedesca che in buona sostanza è un materiale utilizzato sia in ambito edile per le coperture ad esempio anche degli stadi altamente resistente agli urti quindi funzionale per una penna stilografica e resistente anche agli sbalzi termici questo materiale resiste agli urti fino a 100 gradi e quindi sottoposto a una temperatura di 100 gradi ancora riesce a resistere agli urti e il fatto che sia anche utilizzato per la protezione dagli incendi ci fa capire che termicamente è abbastanza isolante e infatti torna utile per una stilografica perché nel momento in cui non siete né morti né prossimi alla morte voi avete una temperatura corporea di 36 gradi questa temperatura la trasmettete alla penna impugnandola la penna a sua volta se una penna stantuffo come in questo caso trasmette o dovrebbe trasmettere direttamente all'inchiostro la temperatura di 36 gradi riscaldando un inchiostro si può avere un comportamento che porta a un'eccessiva capillarità nel pennino per questo le pene cinesi a volte perdono gocce di inchiostro mentre scrivete per lunghe sessioni di scrittura ma non è questo il caso e infatti questa penna l'ho già ampiamente testata devo ringraziare il mio amico normi per avermela prestata per questa recensione normi non sono del tutto sicuro di restituirtela può essere che te la comprerò perché sebbene questo design sia funzionale moderno tipico della lami perché la lami come casa tedesca produce penne sostanzialmente da ufficio cioè non ha un aspetto classico questa penna però è funzionale guardate la clip come si comporta ha una molla interna che a seguito di una pressione in quest'angolo comporta il sollevamento della clip ha bisogno di essere sollevata manco per scherzo in realtà vi faccio vedere una piccola dimostrazione la penna senza premere minimamente sulla clip guardate come sto tenendo il dito si infila tranquillamente nella vostra taschina quindi non avete bisogno e tra l'altro è anche per rimuoverla bisogna tirare un po quindi una clip che non è estremamente rigida ma funziona bene a memoria grazie alla molla torna la posizione di partenza altra caratteristica macroscopica che dicevo il macro non in realtà è un materiale non solo utilizzato in ambito edile ma anche in ambito medico perché è sterilizzabile infatti alcune incubatrici sono realizzate alcuni biberon sono realizzati in macro non anche loro poi cosa produce questo suono il cappuccio e a non è a vite e a pressione e ogni volta che voi lo inserite fa questo piccolo clip questo click non clip questo click è dato da queste alette in metallo queste alette in metallo non sono nient'altro adesso prendo un foglio perché la penna è carica non sono nient'altro che una parte di questo piccolo anellino di congiunzione che si trova tra la sezione che vi sto svitando e il fusto della penna questo nellino con queste sporgenze queste alette serve proprio a dare pieno alloggio al cappuccio assicura che il cappuccio sia stabile e diciamo queste alette per poter sigillare correttamente la penna devono andare nel loro rispettivo alloggio sulla sezione di scrittura quindi quando voi la avvitate in questo caso non posso farlo perché la penna è carica ma bisognerebbe avvitarlo al contrario cioè con la sezione rivolta verso il basso e non verso l'alto come in questo caso in modo tale che l'alloggio delle alette per gravità ne mantenga appunto la posizione però me la sono cavato ugualmente la penna vi offre una piccola finestrella per ispezionare l'inchiostro tante piccole finestrelle da un millimetro e mezzo di altezza e di larghezza diciamo 5 mm buoni diciamo anche 8 da queste finestrelle voi con la giusta luce riuscite a vedere il livello dell'inchiostro contenuto in una penna stantuffo la finestrella per l'inchiostro è fondamentale perché altrimenti non avete modo di svitare il fusto della penna e guardare il livello della cartuccia o del convertitore all'interno la manopola dello stantuffo è a scomparsa come potete notare non c'è discontinuità nel design del fusto in realtà come potete vedere riesco a svitare il pomello agevolmente a farvi vedere laddove c'è l'interruzione corpo in macrolon sezione in metallo il la lavorazione sia del fusto che della sezione in metallo a queste piccole righe che ne danno un effetto di tipo corteccia di legno e questo ne fa una un uso una manualità maggiore è facilmente impugnabile e non si scivola facilmente nella sezione in metallo come spesso purtroppo accade per le penne a 20 sezione in metallo perché tendono a essere scivolose il pennino è in oro 14 carati semi carenato per cui rispecchia alcuni modelli dell'aurora 88 italiana che hanno questa esposizione parziale del pennino non del tutto carenato come in una parker 51 dei primi dei primi modelli e è un pennino decisamente levigato dolce nel tratto ed è disponibile in varie gradazioni in questo caso parliamo di un pennino f in oro 14 carati sempre in oro 14 carati avete la disponibilità di pennino extra fine oltre al fine medio broad extra broad obliquo medio obliquo broad e obliquo extra broad queste sono tutte le gradazioni disponibili con la lami 2000 cos'altro posso dire è una penna senza dubbio interessante dal mio punto di vista da avere perché guardate un po come si comporta allora innanzitutto il cappuccio si può calzare col minimo sforzo la minima decisione senza dover per forza provocare dei graffi nel flù nel fusto la penna è leggera pesa 25 grammi senza inchiostro e col cappuccio calzato raggiunge delle dimensioni ancor più importanti e bilanciata discretamente bene trovo un peso maggiore andando diciamo che il fulcro del peso per me è proprio dove la la sto impugnando il che la rende maggiormente manovrabile per cui non dà un peso anche se in questo caso lo sto usando con cappuccio calzato il peso non si sposta all'indietro per una mano di medie dimensioni si può tranquillamente utilizzare senza cappuccio calzato nelle prove che ho fatto prima di questo video solitamente la usavo in questa maniera quindi parliamo di una lami 2000 tendo specificare che trattasi del modello in macro lonna che è un marchio registrato buyer esiste anche una versione in acciaio della penna detta anche lami 2000 m che ha tutt'altro peso circa il doppio e altre caratteristiche ma non le vedremo in questo video anche perché non ce l'ho lami 2000 caricata con pelican edelstein smoky quartz ho deciso di iniziare ad attingere alla mia scorta di questo inchiostro edizione limitata che tra l'altro con questa penna si comporta benissimo vediamo la continuità di flusso d'inchiostro fornita da questo alimentatore pennino direi che non vi abbandona praticamente mai guardate quanto velocemente sto tratteggiando questi otto eppure non ha perso praticamente un colpo in qualsiasi verso di scrittura io spinga il pennino si comporta senza particolare feedback nonostante possiate sentire un suono come di grattare vi garantisco che per me che sono mancino questo pennino è una delizia cioè è veramente ben levigato ben settato il flusso è discretamente generoso e per quanto concerne la variazione di tratto ha un minimo di pressione con molta cautela vediamo se riesco a ingrandire un po' con minimo di pressione dicevo potreste ottenere un tratto maggiore rispetto a questo quindi volendo variare un po' il tratto lo posso fare con un minimo di cautela basta spingere un pochino nella direzione del foglio per far sì che i rebbi si allarghino un attimino ma non è per questo che è stato ideato questo pennino non è detto pennino flessibile per cui ne spacciato come tale su carta in questo caso favini schizza e strappa l'inchiostro tende un po' a espandersi non ha spiumaggio però ha un tratto più abbondante considerate che questo è un pennino f non m eppure sembrerebbe un m un difetto che ho notato in questa penna il seguente se io volessi scrivere lungo sessioni di scrittura molto prolungate potrei avere il difetto di ruotare un po' il pennino mentre scrivo in questa maniera qui se voi ruotate adesso sto scrivendo normalmente inizio a ruotare il pennino tenendo un tratto più sottile potrei sperimentare non in questo caso vorrei però sperimentare eccolo qui un salto il salto lo fa perché ho estremizzato la rotazione del pennino altrimenti non vi da skipping ok quindi se vi dovesse dare skipping molto probabilmente controllate il vostro il vostro pennino perché lo state facendo ruotare un po' troppo e in questo caso avrete un salto senza dubbio dal mio punto di vista è una penna da avere ringrazio normi ancora una volta per avermela prestata perché è favolosa le sessioni di scrittura che ho avuto sono state deliziose su carta rodia vediamo come si comporta ma tendenzialmente il risultato è lo stesso questa è una carta molto levigata quindi si accentua ulteriormente l'effetto del pennino ben levigato e questo vi porta a delle piacevoli sessioni di scrittura quindi se amate l'effetto vetro l'effetto di un pennino che pattina sul foglio dolcemente questo abbinamento di inchiostro carta e penna credo sia l'ideale io vi ringrazio per la vostra attenzione e mi auguro di avervi anche al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti